benvenuti amici vapers benvenuti canale youtube li svapo e io sono mister nino tattà trattino basso dnt combo micidiale fuciai 213 mini singola battery 18 650 ospito un atomizzatore flytank di galattica mod per il tiro di guancia una mod prettamente piccolina compatta love profile veramente molto interessante confermo che non sia un prodotto uscito di recente ma mi piaceva parecchio l'ho voluto acquistare e tenere quindi in catalogo tra tutti i miei video ragazzi informazioni dopo la sigla packaging è quasi identico alla versione fuciai 213 dual battery quindi questa confezione rigida vpit love it fuciai 213 qui riporta infatti mini il codice qr alcune specifiche tecniche della confezione ed infine il logo www.sigelei.com al suo interno invece troviamo la fuciai mini di dimensione ridotte perché ospita una batteria 18 650 user manual ovvero piccolo manuale illustrativo con le caratteristiche tecniche e alcune figure inerenti al funzionamento del menu cave per la ricarica della batteria istruzioni per il security code e alcuni tagliandini la piccola fuciai invece pur rimanendo il telaio della serie fuciai 213 eccola qui ve la faccio vedere la mini presenta un design lucido con una curvatura morbida mantenendo come detto poc'anzi le caratteristiche della 213 con una lega di alluminio molto resistente e la costruzione in lega di zinco molto pratica da portare in giro ve ne faccio vedere le differenze tra le due questa è la fuciai 213 dual battery questa è la mini single battery diciamo che questo colore è quello che io preferisco infatti nella mia precedente versione anche della si geley 213 fuciai squonk ho acquistato praticamente lo stesso colore vista dall'alto praticamente sono identiche solo che questa è la versione mini quindi la versione ridotta più pratica da portare in giro questo a seconda infatti dal tipo di atomizzatore che andrete ad ospitare io utilizzerò un atomizzatore per il tiro da guancia utilizzerò a un massimo di 19 watt ed avrò veramente tanta autonomia vista dall'alto c'è un pin spaccato ma comunque a molla lo slot delle batterie è ospitato sotto dove il positivo sarà rivolto verso l'interno queste le laccature per il contatto finale della batteria qui invece ci sarà lo sfiato della stessa piccolo display tasti più o meno le dimensioni di questa piccola box sono 79 per 37 per 28,5 o i 28,5 sono questa parte curvata per altro in estensione ciò nonostante riesce ad ospitare atomizzatori io monter monterò un 24 e non sborderà minimamente come detto il materiale è una lega di alluminio più una lega di zinco e molto resistente al calore e agli urti una cosa molto importante che mi stavo quasi dimenticando di dire all'interno della confezione c'è anche una piccola cover in silicone per il trasporto diciamo che non amo molto la cover in silicone trasparente l'avrei preferita nera o un qualche colore un po scuro comunque viene data insieme all'acquisto della box in se stessa la gamma di potenza della mini va da un minimo di 5 watt ad un massimo di 80 watt qui invece la presa usb per la ricarica della batteria 18650 la gamma di temperatura andrà da un minimo di 100 gradi centigradi ad un massimo di 300 gradi mentre l'impostazione in fahrenheit sarà tra i 212 minimo ad un massimo di 572 la tensione in ingresso che riuscirà a sprigionare il circuito è tra 3,2 volt ad un massimo di 4,2 volt sopporta tutti i tipi di fili di wire quindi praticamente in commercio titanio acciaio ni 200 e la funzione power andando ad inserire una batteria 18650 con il polo positivo rivolto verso l'interno la box si accende subito però ve la faccio vedere la box risulta veramente piccolina e compatta pratica da portare in giro questo colore metallizzato volendolo definire così risulta molto acceso molto sgargiante comunque in catalogo ci sono molti colori differenti la box come la precedente versione non si spenge basteranno cinque click per andare a bloccare tutto il circuito andiamo a leggere il display qui ci darà i nostri watt in relazione se stiamo in power oppure stiamo utilizzando il controllo della temperatura ci dirà il materiale di cui stiamo utilizzando qui invece ci legge l'espressione in ohm della nostra resistenza i nostri volt in relazione a quanto stiamo erogando infine la carica espressa in ampere di quanto stiamo utilizzando la batteria ed infine qui ci indica il valore in volt della carica della batteria bene io adesso ho messo una batteria totalmente carica infatti l'espressione mi da 4,24.1 come tutti i sistemi fuciai la batteria funzionerà in questo modo in fase di erogazione l'indicatore scenderà utili facendo vedere l'utilizzo della batteria una volta rilasciato il tasto file tornerà nella fase di riposo le combo per questa mini sono tasto file e tasto più si entra nella selezione del pre it tre secondi premuti contemporaneamente qui possiamo andare a selezionare quanti watt vogliamo andare a dare al nostro pre it con il tasto file ci muoviamo nel menu e qui andiamo invece a selezionare i secondi di spunto che andiamo a chiedere alla nostra box vado ad inserire un atomizzatore userò un fly tank di galactica mod dove la mia resistenza finale cinque click vado a bloccare cinque click vado a bloccare la mia resistenza finale ecco qua 0 69 0 70 vado ad impostare i miei watt di erogazione comunque il meno scorre abbastanza veloce da un minimo di 5 watt come dice libretto illustrativo invece mi ritrovo che il minimo e 10 quindi da 10 ad un massimo di 80 watt comunque vedo che scorre veramente molto veloce 80 watt allora andando ad impostare i miei 19 watt per una resistenza finale da 0 7 da 0 70 io credo che sia la soluzione ottimale queste le nostre combo tasto fire e tasto più contemporaneamente andiamo nel pre it con tre click si entra nel menu power titanio acciaio 316 n i200 304 o 307 andando ad impostare in questo caso il controllo di temperatura ci chiede se fare night o gradi celsius diamo l'ok con il tasto fire arrivati in questa schermata abbiamo la possibilità con i tasti più o meno di andare a regolare la nostra temperatura invece per andare ad impostare praticamente i nostri watt di erogazione lo stesso modo che siamo andati a selezionare il nostro pre it utilizziamo i tasti fire quindi più o meno e qui invece ci darà la posti ecco 39,0 io per farvi vedere metto un 30 38,9 confermo confermo ed infatti qui mi riporterà 38,9 adesso io ho intenzione di utilizzare la mia box in modalità power e gli vado a dare la conferma 5 clic veloci la box non si spenge ma andrà in blocco loghead ciò significa che anche il tasto di attivazione sarà bloccato questo sarà utile per un trasporto o per eventuali o accidentali accensioni vista in tutte le sue angolazioni secondo me una boxettina piccola compatta perfetta con un tank low profile ovvero a basso profilo come questo in questo caso da 24 mm che si adatta bene alla mano e facilmente trasportabile qualora avete intenzione invece di andare ad ospitare un atomizzatore quello che più vi piace potete andare a mettere un atomizzatore a testine utilizzandone per altro tutti gli 80 watt che la box vi dà la possibilità di poter utilizzare adesso io in questo caso molto un atomizzatore a testine la cui resistenza finale vado a sbloccare è da 0 40 e andrò infatti ad alimentarlo intorno ai 40 watt arrivati a questo punto amici ogni volta che cambiate atomizzatore fate attenzione perché probabilmente rimane impostato il pre hit precedente quindi in questo caso io avrei avuto un pre hit di 20 watt che sarebbe stato quasi inutile quindi ricordatevi solo ogni ad ogni cambio di atom di andare a controllare praticamente il giusto pre hit ecco fatto farò la mia apertura nelle considerazioni con questo atomizzatore e poi terminerò con l'atomizzatore il fly tank per il tiro di guancia considerazioni benissimo amici come vi dicevo ho fatto la mia entrata con un atomizzatore a testine questo perché non tutti possano amare un atomizzatore per il tiro di guancia in questo caso io ce l'avevo rigenerabile potete montare un atomizzatore a testine o tanti utenti preferiscono gli atomizzatori a testine perché sono più pratici questo quindi vi dà la possibilità di montare 24 25 mm senza che possano sbordare dalla box e questa è una comodità quindi da non sottovalutare i suoi 80 watt vengono sprigionati chiaramente da una sola batteria 18650 quindi escluderei o sconsiglierei l'utilizzo di questa box magari andandoci a mettere un dripperino e poi andarlo volendolo definire così a strippare sui 70 75 watt perché arrivati a quel punto potrei consigliare l'utilizzo di una box dual battery dove si va a sforzare il circuito in maniera molto minore o in questo caso una box che possa arrivare a 150 watt con l'utilizzo delle nuove batterie 2700 e sto parlando della nuova fuciai squonk 213 come vedete a me piace tantissimo questo colore ne ho quasi tutta la serie non ho acquistato la fuciai 213 plus perché avevo già acquistato questo modello quindi per avere uno schermino a colori non mi è stato di interesse fare un altro acquisto ma con l'avvento praticamente della nuova fuciai 213 bf l'ho voluta provare questo prodottino considero che non è un prodotto uscito di recente ma mi piaceva tantissimo il modello o l'idea di avere una box piccolina compatta e portatile da portare in giro per il mio atomizzatore per il tiro di guancia chiaramente amici queste sono solo considerazioni mie personali ho ho cambiato atomizzatori quindi cosa ho fatto sono entrato nel pre it ho levato i 40 watt che avevo impostato prima perché sarebbero stati troppi e sono andato a chiedere i stessi watt di erogazione praticamente di potenza che adesso andrò ad impostare che sul mio display perfetto 0 72 legge a dovere sto sbavando un notturno inglese di azad e questo tanto per completare la recensione la boxettina come vedete è piccolina sta bene in mano di facile trasporto avrei gradito forse la possibilità che si potesse spengere invece con i 5 click va in standby e si blocca anche il file stesso discorso era per la fuciai 213 che poi più avanti con le varie versioni hanno un po implementato questa funzione che finalmente hanno messo la funzione di spengimento totale della batteria comunque del sistema dc ragazzi non ne posso parlare perché non ne faccio grande utilizzo vi ho fatto vedere le varie impostazioni poi qualora se siete utenti che ne fate utilizzo avete vi ho fatto vedere le impostazioni di come poter mettere i watt nel menu io utilizzandola prettamente in power anche se adesso ho fatto una rigenerazione con acciaio 3 16 0 28 e l'ho fatta una 0 7 continuo per la mia strada perché non amo il tc e quindi me ne vado su power normale allora ragazzi questa è la piccola mod piccola compatta maneggevole e compatta colori sgargianti perché come avete visto mi piace tanto il blu elettrico voi una mod così piccolina cosa ne pensate lasciate un commento alla fine del video su youtube se pensate che possa essere interessante lasciate un like se il video vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale youtube allisvapo colore non siete iscritti mi trovate anche su instagram basta fare una ricerca mister nino tata trattino basso tnt allisvapo ed esce la mia pagina io saluto tutti quanti e vi ringrazio per aver visto questo video ci vediamo alla mia prossima recensione saluto tutti quanti ciao mister nino no